le ha dato fuoco e poi è rimasto lì a guardare la donna bruciale un atto folle e crudele per fortuna a salvare la vittima che ardeva viva sul letto ci hanno pensato i carabinieri di Maddaloni che hanno spento le fiammi con un lenzuolo e soccorso immediatamente la povera vittima. E' immediato anche stato l'arresto di due uomini Fakir Ali Cherif e Baksais Rashid senza fissa dimora entrambi clandestini e residenti a San Felice a Cancello ritenuti responsabili di tentato omicidio in concorso ai danni appunto della donna. I due infatti avrebbero gettato dell'alcol etilico sul corpo della vittima dandole fuoco con un accendino. Quando i carabinieri sono intervenuti per salvarla addirittura e a due hanno tentato di fermarli ma i militari dopo una breve colluttazione sono riusciti a spegnere le fiamme. I carabinieri hanno poi trovato la bottiglia contenente il liquido infiammabile di un accendino materiale utilizzato dai due per commettere lefferato delitto. I carabinieri, la polizia, cosa è successo? Non ho a vedere cosa. Ho sentito che le vengono bruciate con il spirito, un ubriaco tutti e due. Ma lei riconosce queste persone? Le abita qui da tanto tempo? No, sono due mesi che abitano qua. Dai primi accertamenti risulterebbe che il movente sia riconducibile ad una lite scaturita per futili motivi tra Fakir Ali Cherif e la compagna. La vittima è stata trasportata presso il centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Napoli, il Cardarelli, presente al 60% del corpo lesionato ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata in pericolo di vita. Gli arrestati sono stati accompagnati invece in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un atto terribile quello che hanno compiuto. I due ora sono interrogati dai carabinieri.